a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del tg giorno di oggi martedì 5 luglio 2022 apriamo dunque con la cronaca padre e figlio di 67 26 anni dovremmo vedere anche alcune immagini sono morti la notte scorsa in un drammatico incidente stradale avvenuto a pescia dove due auto si sono scontrate frontalmente nello scontro sono rimaste ferite anche una donna di 63 anni e una bambina di 12 una quinta persona è stata estratta in colume dalle lamiere lo schianto è avvenuto poco prima delle 23 in via romana sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di pistoia la polizia stradale sanitaria del 118 su questo drammatico incidente stradale torneremo in modo più ampio nelle prossime edizioni del tg noi andiamo invece sul nostro sito dove ci sono tante notizie davvero dell'ultima ora www.itv.it in primo piano troviamo vabbè vi faccio vedere anche sul la notizia d'apertura che vi abbiamo appena dato schianto frontale sulla romana due morti distrutto una famiglia poi se andiamo in primo piano colpo al mercato del falso di lusso in versilia sequestri per un milione nove persone denunciate 13 mila pezzi di alto pregio contraffatti sequestrati insieme a numerosi macchinari un'autovettura e varie attrezzature per la lavorazione per un valore complessivo di circa un milione di euro è il bilancio dell'operazione condotta dalla guardia di finanza mirata al distretto turistico della versilia anche in questo caso un ampio servizio nelle edizioni del tardo pomeriggio del tg noi i vigili del fuoco del comando di lucca sono intervenuti questa mattina a capannori nei pressi della chiesa di tassignano per l'incendio di un furgone pubblicitario il mezzo era parcheggiato in un'area di sosta lungo la via provinciale romana che collega lucca dal topascio le fiamme hanno quasi certamente origine dolosa ricordiamo che ieri mattina un furgone vela della stessa azienda pubblicitaria era andato distrutto nei pressi dell'uscita autostradale della 11 di capannori sui due incendi sta indagando la polizia che è intervenuta anche con la sezione scientifica della questura di lucca e purtroppo non ci sono affatto buone notizie per quanto riguarda i dati della pandemia anche in questo caso andiamo sul nostro sito apriamo la notizia ecco adesso scusate apriamo anche questo ricorda che da qualche tempo siamo passati sul canale 12 del digitale terrestre brusca impennata dei casi in toscana quasi 8.000 tasso di positività al 27,5 per cento vediamo nel dettaglio c'è già il quadro completo i nuovi contagiati sono 7.930 età media 47 anni il tasso di positività al 27,5 per cento i ricoverati 611 più 37 le terapie intensive 23 quelle rimangono ancora per fortuna contenute 23 comunque più 3 11 decessi in toscana con un'età media di oltre 85 anni uno di questi in provincia di lucca dove ci sono 888 nuovi contagiati dati senza dubbio abbastanza preoccupanti e torniamo ancora sul chiudiamo questa notizia e torniamo ancora sul sul nostro sito eccolo qua per parlare di un grave incidente in fabbrica avvenuto questa mattina ad alto pascio un operario di 36 anni di origini macedoni è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro questa mattina alle 6 l'abama group azienda di alto pascio leggiamo ancora secondo le prime ricostruzioni stava manovrando una pesante lamiera che gli si sarebbe rovesciata su un'avambraccia a dare l'allarme sono stati i colleghi del turno l'operario si è procurato la semi amputazione del braccio sinistra dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori della croce verde di porcari intervenuti con un'ambulanza con medico a bordo l'operario è stato trasportato all'ospedale di lucca e da lì trasferito a pisa al nosocomio di cisanello andiamo in versilia massarosa con baracche a fuoco a piano di momio indagini in corso un incendio divampato a metà pomeriggio di lunedì in alcuni terreni di via cala grande a piano di momio nel comune di massarosa le fiamme hanno attaccato alcune baracche in un terreno nei presti di un maneggio e si sono poi estese in direzione nord verso l'autostrada interessando la linea telecom un fronte di fuoco di diverse centinaia di metri che ha bruciato elettrodomestici da cucina e varie attrezzature per animali custodite nella rimessa e soprattutto le sterpaglie dei terreni vicini il rogo è stato favorito dalla seccità di questi mesi ma anche dal vento di metà giornata sul posto le forze dell'ordine due squadre di vigili del fuoco e un elicottero dell'antincendio boschivo sono intervenuti i carabinieri della forestale di pietra santa per valutare la situazione presente anche il vice sindaco damasco rosi le indagini sono in corso per capire come sia partito il fuoco le forze dell'ordine hanno notato che il cancello della struttura era stato aperto dettaglio che insieme ad altri elementi raccolti lascia pensare che possa essere un incendio di origine dolosa allora eccoci tornati mi avete colto un po impreparato perché stavo segnalando al collega Matteo Bedini che mi supporta sul piano tecnico che è arrivata proprio possiamo dire pochi istanti fa una notizia riguardante maltempo codice giallo per temporali forti dalle 12 alle 20 di domani mercoledì 6 luglio la leggiamo assieme condizioni del tempo instabile in arrivo in toscana con possibili temporali che oggi interesseranno l'appennino tosco milano mentre dal pomeriggio di domani e fino alle prime ore della sera potranno diventare forti anche nelle zone interne della regione quindi per tutta la toscana ecco questa allerta esclude la fascia costiera fino alla versilia ma si riguarda le altre zone interne a proposito di zone interne andiamo in garfagnana o perlomeno nella valle del serchio a pegnana di barga dove si è celebrato con la sagra paesana il ritorno almeno lo speriamo alla normalità mancava da due anni dal pre pandemia la sagra di pegnana che negli ultimi due fine settimana ha celebrato il suo ritorno alla normalità dopo tanti mesi difficili per tutti e lo ha fatto con un'edizione che ha registrato indubbiamente la voglia di tornare a vivere di centinaia e centinaia di persone domenica 3 luglio l'ultima serata al fresco delle colline di pegnana in mezzo a castagne vedute piacevoli dell'appennino ed anche la sindaca di barga caterina campani non ha voluto mancare l'appuntamento e l'occasione per celebrare il ritorno delle sagre tradizionali del territorio finalmente dopo due anni che abbiamo insomma sofferto un po di della mancanza di queste occasioni è ritornata la prima fiera tradizionale paesana in pegnana quindi siamo tutti qui mi sembra che sia andata bene in questi due weekend quindi partiamo con grande slancio quest'estate ce ne saranno anche altre però ribadisco questa è la prima quindi ha un sapore tutto particolare tra i componenti storici del comitato di pegnana che organizza da decenni questa sagra c'era anche omero tonieri che non nasconde l'emozione per questa ripartenza è un'emozione forte è una cosa meravigliosa poter ripartire dopo due anni ma non soltanto per la mancanza della sagra è mancato proprio l'aggregazione la possibilità di ritrovarsi è stato difficoltoso rimettere in fila tutte le pedine per poter ripartire però ce l'abbiamo fatta e sono soddisfatto perché anche i ragazzi che collaborano con noi sono tutti venuti sono tutti ritornati anzi sono aumentati quindi è stata una cosa meravigliosa molto apprezzato in questi giorni di calura anche il refrigerio di questo angolo di montagna barghigiale che ha regalato a tutti i partecipanti momenti particolarmente piacevoli tra una gustosa portata ed un ballo in pista anche questo senz'altro un altro ritorno alla normalità il ritorno della sagra a pegnana di barga il ritorno anche del luglio alto pascese una prima serata all'insegna del divertimento e della riscoperta della convivialità è partita così dopo tre anni di stop l'edizione della rinascita del luglio alto pascese con il primo evento che ha fatto registrare il tutto esaurito nel centro di alto pascio sono tornate le cene gli aperitivi e street food a cura del centro commerciale naturale e poi il doppio evento nella serata inaugurale con i killer queen cover band del gruppo inglese famosa in tutto il mondo che ha suonato in piazza della magione mentre a farla da padrone in piazza tripoli è stata la carica e l'energia del mamma mia in tour il divertimento ad alto pascio è assicurato fino al 31 luglio ogni sera è previsto un appuntamento diverso tra musica colta e spettacoli teatrali cene in paese concerti rock notti sotto le stelle escursioni e iniziative per giovani famiglie e bambini tanto nel centro storico di alto pascio quanto nelle frazioni è davvero tutto per quanto riguarda questa prima parte del tg giorno vi ringrazio per l'ascolto dopo una breve pausa il telegiornale prosegue con le notizie sportive